E' rientrata difensivamente alla formazione dei neri, ha perso l'occasione per un buon contropiede la squadra rosa e poi c'è il tiro e il gol! Bellissimo! Da fuori aria! Il primo gol ufficiale della stagione del Palermo lo segna con un tracciante splendido da 25 metri. Oger va giù, senza fallo si prosegue comunque per il vantaggio.